Secondo giorno di consultazioni, al colle salgono i partiti, stamattina gruppo misto e responsabili, nel pomeriggio l'EU, Italia Viva e Partito Democratico. Zingaretti serve governo di legislatura, Renzi affidarsi al Quirinale, centrodestra guarda sempre al voto, Vitali, Forza Italia ritira sostegno a Premier. Il processo Gregoretti, giudici stamani a Palazzo Chigi, Conte sentito come persona informata sui fatti, presente anche Matteo Salvini. Virus balzo dei contagi, altre 467 vittime, risale il tasso di positività, attesa per i nuovi colori delle regioni. Vaccini, lo scontro sulle forniture tra Europa e AstraZeneca, ieri confronta Bruxelles, Pfizer riparte la produzione in Belgio. In anteprima al Tg2, le immagini dell'unica casa con terme private al Parco archeologico di Ercolano. A breve partiranno i lavori di restauro nei sotterranei e in sei domus. Buongiorno dalla Tg2, la crisi di governo in primo piano, seconda giornata di consultazioni al Quirinale. Questa mattina colloquio con Mattarella e gruppi misti, più Europa e le autonomie. Poi nel pomeriggio le delegazioni di Liberi e Uguali, Italia Viva e PD. Nelle mani del Capo dello Stato, la valutazione della situazione politica al termine dei colloqui assumerà le sue decisioni. Allora, in diretta dal Quirinale abbiamo Luciano Gelfi. Buongiorno Luciano. Sì, buongiorno.